Siamo reduci da un luglio classificato dagli esperti tre più caldi di sempre e un agosto ormai gli sgoccioli per larga parte bollente. Il clima ormai si sa è cambiato e quello che ne deriva è la progressiva desertificazione dei suoli a causa del surriscaldamento terrestre. E' a rischio anche l'Europa, Italia inclusa, con alcune regioni più esposte di altre. In particolare nel centro-sud la nostra regione non fa eccezione, anzi, secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, le aree a rischio desertificazione in Sicilia sono ormai il 70%, nel Molise il 58%, in Puglia il 57%, in Basilicata il 55%. Ciò avviene, spiegano gli esperti, quando la sostanza organica presente nel suolo è inferiore all'1%, mentre generalmente tale percentuale può arrivare fino al 4% grazie al ciclo biologico dei vegetali, che necessitano però di 500 kg d'acqua per produrre un chilo di sostanza organica. E' dunque fondamentale, spiegano dall'Associazione Nazionale dei Consorsi per la Gestione e Tutela del Territorio delle Acque irrigue, Lambi, la presenza di un sistema irrigo-razionale efficace e continuativo, discorso da considerare seriamente nel centro-sud Italia, area geografica in cui rientra il Molise, visti i dati del CNR. Intanto sono 75 gli interventi finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale Fondo Sviluppo e Coesione Piano Nazionale Invasi. Una buona pratica arriva dalla pianura bolognese, dove il Consorzio della Bonifica Renana distribuisce mediamente ogni anno circa 70 milioni di metri cubi d'acqua di superficie per l'irrigazione, soddisfacendo le esigenze idriche di 17 mila ettari coltivati. Si tratta di acqua proveniente esclusivamente da fonti di superficie, quindi rinnovabile.